story time evoluzione radio bentornati a story time sono sempre giulia oggi sempre in compagnia di jacopo dotti di revolux studios ciao jacopo di nuovo grazie per l'invito abbiamo appena concluso la nostra chiacchierata integrale che vi consiglio di ascoltare sui nostri canali intanto jacopo raccontaci un po gli ultimi progetti allora stiamo lavorando alla distribuzione di falling for you che è un cortometraggio che abbiamo girato completamente a santa monica vicino a los angeles in california e stiamo affrontando quello che è il problema delle droghe pesanti di come queste modificano poi il tessuto sociale delle persone che si trovano in queste aree di come il fantastico sogno americano sta decadendo è un'altra produzione che ovviamente siamo in una fase più avanzata di quella che è la prima fase di fundraising stiamo parlando del film opera prima sabrina con due b lo precisiamo perché parla romano questa sabrina è un'opera che tra ispirazioni dalle notti di cabire di federico fellini quindi un sommo capolavoro e ricontestualizzata negli anni 90 e parla appunto della violenza di genere della violenza contro le donne bene quindi tematiche intense comunque si parla in ogni caso di amore diverse sfumature sfaccettature in ambo i film assolutamente sì perché se non si parla di amore di cosa possiamo parlare benissimo ci lasciamo così grazie mille ancora jacopo per per essere stato con noi a portare la tua storia artistica grazie a voi nuovamente grazie mille anche a tutti i nostri ascoltatori ci risentiamo alla prossima storia tutti i contatti li troviamo qui in sovraimpressione ciao a tutti ma soprattutto ciao jacopo ciao ciao story time evoluzione radio